amici zagorelli buongiorno oggi con qualche giorno di ritardo vi faccio vedere il nuovo classic zagor numero 39 corte marziale allora la copertina vabbè in taglio orizzontale con formata striscia avevamo già vista prezzo 3,90 quindi per ora nessuna variazione e quarta di copertina vediamo il prossimo numero il numero 40 dal 14 giugno in edicola il gigante ribelle ok diamo velocemente guardate qui ragazzi una bella vignetta con il professor Veribard credo che sia una della sua prima apparizione se non sbaglio ok diamo un'occhiata velocemente a cosa contiene questo sabo e a qualche curiosità di queste storie alla cui moreno burattini vediamo cosa ci dice si ci parla si incentra un pochino nel personaggio di trampi che ritroviamo in questo numero tra l'altro ci dice che il suo vero nome ebbene 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 sono spiegati in uno speciale i suoi perché di questa scelta di vita di fare il vagabondo ok ma allora qui c'è la fine della storia ragazzi con digging bill che zago sta cercando di riportare disegni che vignette ragazzi qui sono al cerchio del tesoro questo è un altro personaggio infilato dentro da bonelli di qui non viene spiegato praticamente niente ok dicevo viene si insomma riportato di gmail per testimoniare al processo la cosa cui riesce zagor ok ha guardato ragazzi di ferri come riesce a dare movimento a questa vignetta disegnando i tre lati della faccia di di ghibili che sembra che si muove che cerchi la persona nell'aula ok allora poi vabbè dunque pagina 40 dove dovrebbe rientrare eccolo qua qui si vede il ritorno di trampi perché qui ci sono come sapete le gag che mette bonelli a cui dedica veramente tante tante pagine sappiamo per 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 lui come erano importanti dei gag di cico e quanto quanto spazio gli dedicava addirittura qui ne finisce una dove cercano di racimolare una porzione di arancio poi c'è diciamo un'introduzione a un'altra storia e poi riparte un'altra che è il ciclo e poi comincia praticamente la storia nuova quella dove arriverà probabilmente il professor veri bardi anche questa è una storia western che si svilupperà poi nel prossimo numero ecco qui ragazzi prendiamo per lo spunto perché sarà la traccia il numero poi della zenith originale ok allora qui c'è la pubblicità di racconti d'arco di dicola dal 21 maggio quindi tra pochi giorni lo avremo in edicola e niente numero 39 gente cosa qualche giorno del classic zagor buona giornata a tutti